Sindaco di Napoli cercasi, anche se soltanto è virtuale l'iniziativa di città di Partenope, una realtà presente sul web oramai da anni, abitata da migliaia di cittadini reali con tanto di carta d'identità, cerca il nuovo primo cittadino della città più grande del mezzogiorno. Fondata dal pubblicitario Claudio Agrelli nel 2008, si è consolidata come progetto di responsabilità sociale capace di promuovere attraverso il senso civico l'immagine positiva di Napoli. In vista delle prossime elezioni comunali di aprile, città di Partenope intende dare spazio alle migliori idee e ai progetti più interessanti proposti dai propri cittadini. A tal fine sta avviando un contest in rete per far emergere alcuni candidati sindaco del movimento civico, ovvero di quella parte buona della città di Napoli, che accuore la res pubblica e guarda con interesse ai dibattiti sulla politica rocare, pur non partecipandovi direttamente. Ai nostri microfoni Claudio Agrelli ci spiega il perché di questa iniziativa. Attraverso questo esperimento sociale la nostra città virtuale chiamerà alla raccolta candidati virtuali alle elezioni amministrative. Certo le amministrative di Partenope e non di Napoli, ma queste possono indicare una visione e far venire fuori dei progetti e delle idee alle vere amministrative. Chiamiamo alla raccolta quindi non solo i cittadini di Partenope o quelli che vorranno iscriversi alla città di Partenope, che ricordo essere un'iscrizione gratuita, basta rispettare le regole del senso civico, ma soprattutto tirar fuori tra questi quei cittadini che vogliono mettersi in gioco e tirar fuori le proprie idee e i propri progetti per una Napoli migliore, la Napoli che immaginiamo per il 2030. Attraverso queste candidature che avverranno dal giorno 15 gennaio verrà fuori una campagna elettorale virtuale che sarà parallela a quella delle amministrative vere e spereremo di avere un sindaco a fine aprile, già quindi un pochino in anticipo, un sindaco di Partenope che potrà appunto rappresentare queste idee e questi progetti.